Ciao cari amici di Spazio Etec, siamo qui allo stand Ulefone con il nuovo T2 Pro. Si tratta di uno smartphone decisamente interessante dal punto di vista estetico perché è veramente veramente full screen. Davanti però ovviamente in alto vediamo qualcosa di simile a qualche altro prodotto, cioè un po' la gobba, anche se molto contenuta le dimensioni, piccolo profiletto anche nella parte bassa ma lateralmente e sopra ai lati del notch le cornici sono veramente ridotte. Dal design possiamo vedere alluminio per quanto riguarda il frame intorno, alluminio tra l'altro lucido e dietro in vetro. Doppia fotocamera posteriore, una da 22 megapixel dell'altra da 13 megapixel, frontale 16 megapixel per quanto riguarda la fotocamera da frontale e questo enorme display è un display da 6.7 pollici full HD. Al momento ci è stato detto che è ancora molto in fase di sviluppo in quanto lato software possiamo vedere per esempio che la barra di stato è tagliata in occasione del notch in quanto Android per il momento non supporta ancora ufficialmente di default il notch, però diciamo che ha altre specifiche interessanti questo dispositivo in quanto porta al suo interno ben 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria all'interno da ben 5.000 mAh, affiancata a un processore Helio P70. Si sa che i processori Mediatek di solito sono abbastanza contenuti nei consumi quindi ci si aspetta che con 5.000 mAh possa essere molto performante come autonomia. Possiamo vedere USB Type-C qua in basso, speaker, microfono, tasti laterali sul lato destro, viene menzionato anche il fatto che sia presente il lettore di impronte digitali sotto il display, non possiamo mostrarvelo in quanto non è ancora la versione definitiva e sarà presente anche lo sblocco facciale, però non ci sarà nessun accrocchio hardware un po' più evoluto come per esempio quello di iPhone X, ma si tratta dello sblocco facciale classico di Android. Sarà montato Android 8.1, il software ancora in fase di lavorazione, il prezzo ci è stato detto probabilmente intorno ai 400 dollari, ci è stato detto sarà alto, a noi non ci sembra così alto, 400 dollari, per un concept di questo tipo e per quanto riguarda la disponibilità non è ancora ben chiaro, però diciamo che potrebbero mancare ancora almeno 4 mesi prima di poterlo vedere in versione definitiva.